Fischio finale, è finita la gara, è finita la gara, Virtus Castelfandana 4, Citerius San Valentino 1, tutte le reti nel primo tempo. Ecco si saluta il mister, ecco rientrano l'arbitro di Lanciano, il signor Gian Cristoforo. Ecco i ragazzi, bobo, tutto a posto, tutto a posto, altri tre punti pesanti per la Virtus. Domani, domenica prossima ci aspetta la trasferta a San Buceto, una gara importante, Italia 1, vi riprendete? Ecco il nostro Gerardo, posso, ecco l'arbitro, ok, tutto ripreso.